Ciao a tutti al quiz sulla sostenibilità per rispondere a domande comuni sulla cura dell'ambiente e per questo passo la mia parola alla mia collega Giulia. Ciao, iniziamo con la domanda numero uno, che cos'è la sostenibilità? La sostenibilità è fare positivi cambiamenti nell'uso delle risorse naturali e umane per migliorare la qualità della vita. Benissimo, e come facciamo a diventare sostenibili? Intanto non utilizzando sostanze estrate dalla crosta terrestre, sostanze chimiche e ovviamente non dobbiamo distruggere la natura. E quello che facciamo tutti i giorni, cioè produrre rifiuti, ma facciamo ad evitarlo? Beh, intanto facendo il compostaggio domestico, comprando oggetti con pochi imballaggi oppure con imballaggi riciclabili, evitare gli oggetti usa e getta e bere acqua dal rubinetto. A me piace tanto quella frizzante. Beh, allora ti propongo di comprare un gasatore, in modo che produrrai meno rifiuti, perché prendendo la bottiglia di plastica frizzante produci un rifiuto, col gasatore ne produci la metà. Benissimo!